Il consigliere comunale di Teramo, Francesca Di Timoteo, dice no al nuovo ospedale, sì invece a mantenere l'ospedale lì dov'è, ovvero a Villa Mosca. Sì, questo è il mio pensiero riguardo la realizzazione di un nuovo ospedale. Credo che delocalizzare anche questa grande struttura a Teramo, che comunque siamo capoluogo, credo che sia un danno sia per la città, anche per il quartiere, per tutti gli utenti. Anche ripensando alla delibera di consiglio che nel 2017, in cui ero presente e che ho votato, lì, volevo fare una precisazione, nella delibera si proponeva l'opportunità di valutare varie zone, tra cui anche quella di Pianodaccio, anche quella di Casalena, ma nulla si decideva in maniera definitiva. Quindi per me, quindi personalmente, credo che delocalizzare questa struttura a nuovo ospedale sia un danno grande per la città. Secondo lei i fondi disponibili dovrebbero essere destinati alla messa in sicurezza dell'ospedale già esistente? Io credo che sia possibile, credo io ma anche altri che si sono esposti a dire la propria a riguardo a questo argomento, credo che sia possibile investire sulla nostra struttura che è esistente.